Oggi facciamo un tuffo nel passato con la Chimera Evo 37, andiamo a scoprirla e soprattutto proviamola in pista. Non è un miraggio ragazzi, lei è la Chimera Evo 37 e oggi sto vivendo un sogno, sarò il primo creator italiano a poterla provare in pista. Trattandosi di Restomod, costruito sul telaio della Lancia Beta Monte Carlo, è registrata come vettura storica e può permettersi di mantenere inalterate le sensazioni che era in grado di trasmettere la vettura originale del Mondiale Rally. Dimenticatevi l'elettrico, dimenticatevi gli scarichi tappati, dimenticatevi l'elettronica superflua dei giorni nostri. Qui si sente l'odore di benzina quando si entra nell'abitacolo, si sente il fischio del compressore volumetrico, si sente il soffio dell'aspirazione proprio dietro alle orecchie. Per accenderla si deve prima dare corrente con un tasto, poi si devono azionare le pompe con un altro e poi finalmente con l'adrenalina 1000 succede questo. Con la Mappa 3 che sblocca tutti i 505 cavalli dei 4 cilindri in linea, la Evo 37 è di una brutalità inaudita. Gli stacco di frizione e un calcio sulla schiena e il sistema ABS Motorsport, unito ai soli 1100 kg di peso, rendono l'esperienza di guida unica nel suo genere. Ancora più unica se al vostro fianco avete niente meno che Luca Betti, CEO di Chimera Automotive. Emozioni così difficilmente si possono descrivere a parole. Grazie, è stato un piacere. Era mezzo, grande davvero.